Abbiamo riacceso i riflettori su Cala Tabbiano e l'emergenza idrica che alla fine dello scorso anno ha messo in ginocchio la città di Messina. Abbiamo dimostrato che quanto era stato promesso per mettere in sicurezza la collina del centro catanese non è stato ancora fatto e la fornitura idrica messinesi viene garantita in questo momento grazie al bypass realizzato dalla protezione civile, quale soluzione tampone in attesa del ripristino della condotta principale. Sulla questione sollevata ieri durante il nostro telegiornale interviene la portavoce del Movimento 5 Stelle all'Ars, Valentina Zafarana. Da quando è iniziata l'emergenza non abbiamo smesso di chiedere continui ragguagli alle istituzioni competenti, protezione civile e assessorato regionale al territorio ambiente, in meglio da quanto previsto dalle diverse ordinanze messe in quei giorni, ma, scrive la deputata 5 Stelle, probabilmente si rivelerebbe più facile ottenere un'udienza papale. Non solo non sono stati avviati i lavori definitivi, ma, denuncia la Zafarana, non c'è neanche traccia del milione che l'assessore Croce aveva promesso alla città in attuazione dell'ordinanza di protezione civile numero 295 del 2015. Lo stanziamento dei fondi era previsto già a novembre, dai controlli incrociati con la ragioneria regionale di quei soldi non si è visto un centesimo. Inoltre, continua Zafarana, le nostre sollecitazioni, l'assessore Croce ha risposto di non avere competenze in materia, dimenticando che il dirigente della protezione civile, l'ingegnere Foti, in qualità di commissario delegato per l'emergenza, aveva già richiesto formalmente trasferimento dei fondi in contabilità speciale. Che fine ha fatto? Si domanda il Movimento 5 Stelle e la relazione che lo stesso commissario doveva redigere, indicando gli interventi svolti e quelli programmati. Quali attività sono in corso sul fronte di Frana Calatabiano? Interrogativi che oggi sembrano non avere risposta.